In questo tutorial affrontiamo l'esercizio numero 8 sulle disuguaglianze nei triangoli. Leggiamo il testo del problema. Disegna un triangolo ABC di base AB e altezza CH. Dimostra che la somma dei tre lati del triangolo è maggiore del doppio dell'altezza CH. Vediamo come poter dimostrare la tesi del problema. In figura abbiamo disegnato un triangolo di vertici ABC. Consideriamo AB come base del triangolo e relativamente a tale base tracciamo l'altezza CH. Lo scopo è dimostrare che la somma dei tre lati di questo triangolo risulta essere maggiore del doppio dell'altezza CH. Per far questo fisso l'attenzione sul triangolo ACH. Ricordando ora il teorema che recita che in ogni triangolo un lato è minore della somma degli altri due e maggiore della loro differenza, relativamente al triangolo ACH potrò scrivere che AC più AH, cioè la somma di due lati, risulta essere maggiore di CH. In altre parole CH risulta essere minore della somma di questi due lati. Fisso ora l'attenzione sul triangolo di vertici HBC e applico di nuovo il teorema precedente e quindi potrò scrivere che HB più BC risulta essere maggiore di CH, ossia l'altezza CH è minore di questo lato più questo lato. Vado ora a sommare membro a membro questa disuguaglianza con questa disuguaglianza e allora vado a scrivere AC più AH più HB più BC. In questo modo ottengo il primo membro della disuguaglianza. Osservo ora che AH più HB non è nient'altro che il lato AB e allora qui al posto di AH più HB posso scrivere direttamente AB. In questo modo la somma di questo membro con questo membro potrà essere scritta come AC più AB più BC. Sommo ora il secondo membro, ossia CH più CH e risulta essere questo. Tenendo ora presente che CH più CH è pari a 2CH, ottengo la seguente disuguaglianza, ossia la somma dei tre lati del triangolo AC più AB più BC risulta essere maggiore del doppio di CH, ossia del doppio dell'altezza. E in questo modo ho dimostrato la tesi del problema.